Esiste un mondo dove la realtà vive nei soli. Non occorre andare lontano per trovarlo, non servono tappeti volanti per raggiungerlo. Basta affrontare il viaggio più bello sulla nave che porta dritto dentro di noi. Nell'inconscio. In questa dimensione prendono forma fantasie e speranze che si rivelano all'uomo in forme fantastiche, mai viste nel mondo fisico. Un paradiso di infinite possibilità e suggestioni appare all'orizzonte. È il giardino che custodisce il benessere dell'umanità, quello che in molti chiamano sogno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.